Carissimi giovani orionini di tutto il mondo, eravamo ormai pronti ad incontrarci a Tortona. Meno di cento giorni ci separavano dall'appuntamento che aspettavamo da tanto tempo. Purtroppo però è accaduto qualcosa che non potevamo in nessun modo immaginare, la pandemia del Covid-19. In queste condizioni abbiamo preso l'unica decisione possibile, quella di rinviare la giornata mondiale dei giovani orionini. Abbiamo detto rinviare, non annullare, perché in questo appuntamento crediamo moltissimo e vogliamo che venga realizzato nella migliore situazione per tutti quanti. Per questo abbiamo una nuova data dal 26 luglio al 1 agosto 2021 e il luogo del nostro ritrovo sarà sempre Tortona e anche Ponte Curona. Il nostro appuntamento è solo rimandato a quando finalmente ci potremo incontrare e abbracciare e sarà ancora più bello. Fino al 2021 ci sarà più tempo per prepararci a rispondere alla nuova sfida che il mondo ci sta proponendo e mettere in atto nuovi paradigmi di vita fraterna, economica e sociale. Intanto c'è una cosa che tutti noi possiamo fare. Non lasciar spegnere le due fiamme che il nostro cammino aveva acceso. Tenerle vive, vibranti, mostrarle a tutti ogni giorno attraverso le nostre azioni e le nostre parole. Oggi abbiamo l'opportunità di vivere questo tempo da orionini per sostenere e confortare le tante persone che stanno soffrendo. Fra pochi giorni vivremo la Pasqua. Sarà un'esperienza nuova che vivremo affidando la nostra vita e tutta l'umanità al Signore. Vi giunga quindi il nostro augurio di trascorrere una Santa Pasqua nella speranza di poterci al più presto rincontrare e riprendere mano nella mano il cammino che tutti insieme avevamo cominciato. Gesù vive e oggi più che mai conta su di te per inviarti come strumento della sua consolazione. Gesù vive e oggi più che vuole più presto rincontrare e riprendere la sua soluzione. Grazie a tutti.